Ok, buongiorno a tutti, io sono Alberto Monge, uno dei docenti di questo corso. Ci vedremo sia in aula, tipicamente al mercoledì, non sempre, ma tipicamente al mercoledì, che in qualche laboratorio durante questo semestre. Insieme faremo prevalentemente esercizi e vedo che avete già tutti il computer, questo è un buon segno, vi consiglio caldamente di provare a fare gli esercizi con me, ok, io cercherò di andare sufficientemente piano per permettere a tutti di riuscire a seguirmi, ma questo è veramente un corso dove più si fanno esercizi, più si ha possibilità di passare l'esame e quindi è più un corso pratico che teorico, oserei dire. Ok, quindi oggi vediamo un primo esercizio molto semplice in JavaFX, che però ci permette già di addentrarci un po' in questo nuovo modo di, non è un nuovo modo di programmare, ma a queste nuove librerie che andremo ad utilizzare in questo corso. Sul sito del corso, nelle lezioni, vi ho linkato, come faremo sempre, l'esercizio, c'è questo pulsantino qua con questa figura, significa che questo esercizio è su GitHub, imparerete a usare GitHub, penso già la prossima settimana. Questa volta lo facciamo localmente sui nostri PC, quindi partiamo proprio da zero, creeremo un progetto da zero, poi durante il corso vedremo che di solito partiremo con uno scheletro di progetto già fatto e quindi andremo a scaricare, a partire da un repository GitHub, imparerete cosa vuol dire, non farete più new project da zero, ma al di là di questo è importante anche saper farlo da zero. Quindi, al link che è presente sul sito, se si apre... Prima andava... Vediamo un po'. Niente, ma lo posso anche andare a prendere in locale. Vediamo un po' se lo trovo. Ok, lo andiamo a prendere di qua, piuttosto. Va bene lo stesso. Ok, eccolo qua. Non so se voi riuscite ad accedere all'internet, probabilmente sì, comunque cliccando su quel link dovreste arrivare più o meno alle stesse istruzioni di questo semplice esercizio che abbiamo chiamato Indovina il numero. Cosa dobbiamo fare? Realizzare un programma in JavaFX in grado di permettere all'utente di appunto giocare a questo gioco Indovina il numero. Quindi in ogni partita il programma deve inventare, tirare a caso un numero tra 1 ed nmax, dove nmax è un parametro di questo programma, e l'utente deve tentare di indovinare il numero segreto. Ad ogni tentativo il programma dà qualche indizio all'utente per permettergli di migliorare il suo tentativo. Quindi può rispondere in tre modi. Il programma, vabbè, se l'utente è indovinato, risponderà indovinato e la partita è finita, altrimenti risponderà numero troppo basso o numero troppo alto, in modo tale che l'utente possa fare una miglior scelta nel tentativo successivo. L'utente ha un numero limitato di tentativi, non può giocare all'infinito. Questo è un altro parametro di questo programma, Tmax. Ovviamente se l'utente non indovina entro Tmax tentativi, la partita è persa. Il programma in ogni momento visualizza il numero di tentativi ancora disponibili. Quindi, ricapitolando, una partita può terminare perché il numero è stato indovinato, oppure perché sono stati esauriti tutti i tentativi. In questo caso, se la partita è persa, il programma mostra anche qual era il numero segreto. Al termine di una partita se ne può iniziare una nuova, ovviamente con un nuovo numero casuale e rimettendo i tentativi a zero, no? Si riparte da zero. Queste sono le specifiche base dell'esercizio che andremo a fare oggi. Poi ci sono delle estensioni possibili, non so se avremo tempo di vederne qualcuna, altrimenti il consiglio è provate voi a casa, in autonomia, a farle. È un buon esercizio. D'accordo? Allora, partiamo proprio da zero. Avete già visto questa procedura, ma è bene ripeterla perché le prime volte può sembrare un po' macchinosa. Creiamo un nuovo progetto. Non creiamo un progetto base in Eclipse, ma andiamo a creare, come avete visto, un Maven Project. Maven Project ci permette di riutilizzare un archetipo, si chiama così, con questo nome strano, che non è nient'altro che uno scheletro di programma già fatto per noi, con alcune librerie già inserite, pronto per essere utilizzato in JavaFX. Altrimenti fare tutto manualmente ci vorrebbe già solo un'ora per farlo. Ok? Quindi faccio New. Io adesso ce l'ho già qua, subito qua. New Maven Project. Magari su Windows o su altre Eclipse può essere non direttamente lì, ma in un secondo livello. Quindi magari fate Other e poi trovate Maven Project. Comunque l'importante è cliccare su New Maven Project. La prima schermata ci chiede dove volete salvare il vostro programma. Quindi tendenzialmente si lascia spuntato, ora forse lì un po' piccolo, ma Use Default Workspace Location. Cioè il vostro Eclipse è associato a una determinata cartella che è il vostro Workspace dove andranno ad essere inseriti tutti i vostri esercizi. Ok? Quindi direi di lasciare quella. Altrimenti potete crearlo sul desktop o dove volete, però se avete un unico punto è più comodo anche per voi. Quindi lasciamo spuntato quello. Next. Qui c'è la finestra della scelta dell'archetipo, quello che vi dicevo prima, quindi il nostro scheletro di base. Maven ci offre un catalogo con tantissimi archetipi di base per sviluppare, che ne so, ad esempio un'applicazione web in Java e così via. Noi siamo interessati a JavaFX e in particolare a un archetipo che abbiamo fatto noi specificatamente per questo corso. Quindi nella barra di ricerca scrivo semplicemente TDP e dovrebbe saltarvi fuori questo archetipo qui. Vedete? Si chiama TDP JavaFX Archetype versione 2.0.4, l'ho aggiornata solo l'altro giorno. E poi vabbè c'è il mio username GitHub perché l'ho fatto io semplicemente. Ok? Quindi è questo lo scheletro che andiamo ad utilizzare. Siete riusciti tutti? Sì, dimmi. Allora se è la prima volta che lo fai probabilmente ci va un attimo perché lui deve scaricarlo, scaricare il catalogo online. Assicurati anche di essere connesso a internet perché altrimenti non può scaricarlo. Sì? Almeno la lezione è rimasta 2.03. 2.03, allora probabilmente non ha riaggiornato il catalogo. Probabilmente funziona lo stesso anche la 2.03, quindi va bene anche riutilizzare quella. Comunque al massimo alla fine della lezione ti faccio vedere come si riaggiornano al catalogo, altrimenti seguendo le istruzioni online, che ci sono online, quel file con le istruzioni di installazione, c'è anche la parte dove si può aggiungere un archetipo manualmente. Con quel pulsante add archetype, riscrivi le stesse cose mettendo solo 2.0.4 al posto della 3. Ok? Così te lo aggiunge manualmente senza dover... Ok? Andiamo avanti, next. Qui ci chiede un'altra serie di informazioni. Innanzitutto il group ID che identifica un po', sarebbe l'ID della compagnia, diciamo così, che sviluppa il software. In questo caso siamo in un corso e noi vi consigliamo di mettere un identificativo del nostro corso, quindi it.polito.tdp. L'artifact ID è invece il nome dell'esercizio, del progetto. Quindi noi tipicamente avremo il group ID sempre uguale, sempre questo, con l'artifact ID diverso, con un nome che identifichi il progetto. Chiamiamolo ad esempio indovina numero. Il resto lo lasciamo tutto così com'è. D'accordo? E clicco finish. Clicco finish, lui ci mette un attimo, ragiona un po', mi costruisce le cose. Vedete che qui sulla sinistra, nel project explorer, è un po' piccolo ma non so come aumentare il font di quel menu, c'è una cartella chiamata indovina il numero. Io ho anche altri progetti, ma guardiamo quello che ho appena creato, al cui interno ci sono già dei file, è una struttura di cartelle che è appunto la base del nostro esercizio. I file che ci interessano sono sostanzialmente in due posizioni principali. La prima è source main, dove andremo a mettere il codice sorgente. Vedete che c'è già un package che lui ha creato in automatico sulla base dei dati che abbiamo messo, ha usato il gruppo id, it.polito.tdp, punto il nome dell'esercizio, quindi questo è il package, al cui interno ci sono già tre file sorgente. Ok? Abbiamo la classe main, che non toccheremo mai, è semplicemente la classe da cui facciamo partire il nostro progetto, quindi quando vogliamo lanciare la nostra applicazione, noi non dobbiamo lanciare il controller o l'entry point, ma il main, serve solo per lanciarla. Quindi, ad esempio, per lanciare il progetto, vado sul main, tasto destro, run as java application, ad esempio. Oppure funziona anche aprendo il main e cliccando il play verde lì sopra. L'importante è che ci sia il file main aperto. Vedete, mi ha lanciato questa finestrella, che è la finestrella base che noi poi andremo a modificare. D'accordo? Poi abbiamo l'entry point, questo andremo a modificarlo nel corso del corso, scusate il gioco di parole, ma poi rimarrà sempre uguale. Quindi, fatte quelle modifiche che vedremo nelle prossime settimane, poi rimarrà sempre uguale, e quindi non sarà da toccare. E poi abbiamo la classe fxml controller, andremo a vedere a breve a che cosa serve, l'avete già parzialmente vista nelle prime lezioni. L'altra cartella di interesse è quella delle risorse. Dentro la cartella risorse, l'informazione principale che ci interessa sta nella cartella fxml, e questo file qui, sin.fxml, questo file, dovreste già saperlo, contiene l'interfaccia grafica, la descrizione della nostra finestrella che si aprirà a schermo, giusto? Poi ora andremo a modificarla, costruendo un'interfaccia grafica per il nostro gioco. Altre cose di interesse, qui direi che non ce ne sono. Il file pom.xml, solo per dirvi più o meno che cosa sia, è un file proprio specifico di Maven, dove possiamo andare a specificare le librerie che utilizzeremo nei nostri esercizi. Vedete che il nostro archetipo di base già inserisce una serie di librerie che poi ci torneranno utili, magari non per questo esercizio, ma per gli esercizi più avanti. Ad esempio, questa libreria qui è la libreria dei grafi, quindi ampia parte di questo corso sarà sulla costruzione e navigazione dei grafi, e questa è una libreria in Java che ci permette di gestire grafi, ad esempio. Abbiamo la libreria per connetterci al nostro database, MySQL, eccetera, eccetera, eccetera. Però anche questo file di solito non lo tocchiamo mai. Domande, dubbi? Ok, allora possiamo partire con l'esercizio vero e proprio. Direi in questo caso di partire un po' a progettare la nostra interfaccia grafica, no? Quindi posizionare i bottoni, i campi di testo, eccetera, e poi vedremo come associare del codice a questa interfaccia grafica. Di nuovo, solo per spiegarvi che cosa avverrà in seguito, di solito non ci capiterà mai, non vi capiterà mai di progettare un'interfaccia grafica da zero, come facciamo adesso. Di solito negli esercizi più avanti, anche nell'esame, l'interfaccia grafica c'è già. Quindi la scaricherete da GitHub e il vostro unico compito sarà di scrivere codice Java. Però può capitare in qualche esercizio che occorra, non lo so, aggiungere un bottone, cambiare un'area di testo, eccetera, quindi è importante anche sapere come si fa e quali sono le parti di questa interfaccia grafica, ok? Allora, probabilmente il prof corno vi ha già fatto vedere come associare in Windows, perché lui ha Windows se non sbaglio, il file fxml a SimBuilder, che è il programmino che usiamo per appunto disegnare le nostre interfacce grafiche. Io ho un Mac qui, quindi in un mondo ideale io dovrei fare tasto destro sul file fxml, open with, SimBuilder. Purtroppo, probabilmente chi ha il Mac se ne è già accorto, fare questo non funziona, cioè non mi apre quel file lì, non so se anche a voi viene così, esatto. Abbiamo già cercato la soluzione in mille modi, ma probabilmente è un bug che non hanno risolto, quindi non c'è verso. L'unico modo è allora di andare a aprire SimBuilder separatamente come applicazione e poi da SimBuilder fare, ora si è piantato ovviamente, ok, no si è chiuso, scusate. Ok, da SimBuilder fare file, open e andare a selezionare il file della nostra interfaccia grafica e questo passaggio qui è un po' noioso perché dobbiamo ricordarci bene dov'è il nostro workspace, andare nella cartella giusta e prendere il file giusto, altrimenti modifichiamo un file che poi non vediamo in Eclipse. Quindi io so che il mio Eclipse workspace è nella mia root del mio pc, ora lo troviamo, quindi non application, scusate, users, Alberto, e qui nella mia root c'è una cartella Eclipse workspace all'interno del quale ci sono i miei vari progetti tra cui indovina numero. Allora entro in indovina numero, anche qui un po' noioso ma devo andare in src, main, resources, fxml, sin.fxml. Quindi ogni volta lo devo fare manualmente ma purtroppo è l'unico modo. Per chi ha Windows questa cosa è più facile, dovrebbe funzionare in automatico. Eccolo qua, vedete c'è questa finestrella che l'archetipo di base mi crea ma a me non interessa, cancello tutto perché la voglio andare a creare da zero. Allora cosa ci serve in questo gioco? Come possiamo immaginarcela? Beh ci serve sicuramente una parte per l'utente, dove l'utente possa fare i suoi vari tentativi, con magari un bottone per iniziare una nuova partita, e poi ci sarà una parte sottostante, mi immagino, dove il programma possa dare l'output all'utente, dirgli hai indovinato, il numero è troppo basso, troppo alto, eccetera. Allora, il modo più facile per gestire questo tipo di interfaccia è lavorare su due componenti che si chiamano V-Box e H-Box. Sono due componenti, sono dei contenitori, quindi un V-Box e un Vertical Box, all'interno del quale posso avere tanti H-Box, quindi tante righe, un unico contenitore con tante righe. Quindi qui potremmo avere un V-Box principale con, non lo so, un H-Box sopra per l'input, e un altro H-Box sotto per l'output. Allora, io cerco nella mia libreria dei componenti, qui in alto a sinistra, V-Box, ok? Eccolo qua. Lo prendo e lo trascino sotto, lo posso inserire dove voglio, all'inizio, a sinistra, diciamo, mettiamolo al centro, no? Ok. Ho inserito un V-Box al centro della mia interfaccia grafica. Un contenitore vuoto. Ora, partiamo magari dall'input dell'utente. Quindi, impostiamo un nuovo H-Box, la prima riga, dove andremo a inserire alcuni componenti per permettere all'utente di giocare. Quindi prendo il mio H-Box e lo inserisco, guardate, all'interno, occhio a metterlo bene dentro, del V-Box. Vedete? È un po' spostato sulla destra. Quindi ho un V-Box con un H-Box dentro, una colonna con una riga. Cosa ci mettiamo in questa riga, prima riga? Boh, magari, prima cosa potrebbe essere un pulsante nuovo partita, no? Ok. Allora, cerco un button. Prendo il mio button, ok? E lo trascino all'interno del mio H-Box. Vedete? Si deve evidenziare bene l'H-Box di giallo. Facciamo un po' di zoom. Poi capiamo bene anche come gestire questi spazi bianchi. Allora, ho il mio button, lo seleziono e a destra posso già iniziare, ad esempio, a cambiare il testo del bottone, no? Allora questo si fa dalle sue proprietà, properties, sulla destra. C'è la proprietà text, è un piccola, ma sul vostro PC dovreste vederla. Al posto di button, scrivo nuova partita. Dimmi? Come è fatto a ingrandire i vostri posti? No, ora ho fatto solo zoom. È solo uno zoom di questo programma. Perché non funziona se non funziona? Eh, forse non va su Windows, magari c'è un'altra combinazione di tasti, probabilmente. Allora, ragioniamo comunque sulle dimensioni, no? Vabbè, di un bottone possiamo anche specificarne le dimensioni. Qui abbiamo il menu, sempre a destra, layout. Possiamo dare del margine, del padding e anche l'altezza e la dimensione. Ma vorrei che vi concentraste su questi spazi bianchi, che non sono belli da vedere. Sono degli spazi bianchi all'interno del V-Box e H-Box. Allora, come facciamo ad evitare ciò? Possiamo dire al V-Box e all'H-Box di, come dire, prendere la dimensione degli oggetti che contiene. Non so se mi sono spiegato bene. Qui hanno una dimensione fissa, perché però mi lascia dello spazio vuoto. Io vorrei che il mio H-Box fosse grande tanto quanto lo sono gli elementi che contiene. Come faccio? Seleziono l'H-Box, ad esempio qui sulla sinistra. Vedete che qui ha due campi nel tab di layout che si chiamano pref width e pref height con due valori, 200 e 100. Quindi possiamo andargli dire Use computed size. Use computed size fa sì che l'H-Box si riduca e sia grande tanto quanto il bottone in questo caso, perché ci abbiamo messo dentro solo il bottone. Possiamo fare lo stesso anche per il V-Box. Quindi vado a selezionare il V-Box, vedete anche qui c'è un pref width e pref height, gli dico per favore Use computed size. Vedete? selezionare si è rimpicciolito diciamo ed è grande tanto quanto il bottone che è l'unico elemento inserito. Ok, vicino al bottone potremmo ad esempio, sempre sulla stessa riga ad esempio, potremmo metterci anche un campo di testo dove il programma ci dice quanti tentativi abbiamo ancora ad esempio. Sto inventando, poi si può fare anche modi diversi. Allora mi immagino una label con scritto tentativi rimasti e un'area di testo che verrà poi modificata mano a mano dal programma. C'è una domanda? bella domanda, magari sì, magari no, non lo so, dovrei controllare, magari sì, probabilmente sì. Ok, quindi riseleziono l'H-Box, voglio agire sempre su quella riga lì e ad esempio di fianco al bottone ci vado a mettere una label, prendo una label e attenzione qui, ok, è sempre complicato metterla bene, vedete deve essere all'interno dell'H-Box ma di fianco col mouse è sicuramente più facile. Ecco ad esempio qua ho già sbagliato, ho messo la label dentro al bottone che ovviamente non va bene, la riprendo, ora l'ho messa prima del bottone, non va bene, eccolo qua, ok sono riuscito a metterla dentro l'H-Box ma dopo il bottone, con un mouse è sicuramente più facile. A questa label posso anche cambiare il testo come per il bottone e quindi nelle sue proprietà text scrivo tentativi rimasti, ok? Di fianco a questa label ci vado a mettere un'area di testo in cui il programma mi dirà quanti tentativi mi sono rimasti. Area di testo il componente si chiama text box, mi sembra, no, text field scusate, ogni programma ha la sua nomenclatura, text field. Quindi lo prendo e lo vado a inserire dopo la label. Ok, rendiamolo un po' più carino, vedete che ora sono tutti appiccicati. Innanzitutto questa text field è un po' troppo grossa, qui il programma mi dovrà dire solamente un numero, cioè il numero di tentativi rimasti. Quindi facciamola anche un po' più piccola. nel suo layout, adesso si posso specificargli una dimensione, una larghezza fissa. Pref width mettiamo boh, 80? 80. Poi vorrei magari anche distanziare un po' i vari componenti. Posso farlo in due modi direi, ma sì, diamo del margine che forse è meglio. Quindi ad esempio seleziono il bottone e sempre nel suo layout vedete posso dare del margine, quindi del margine rispetto agli altri componenti. Non lo so, diamo un margine di 10 sia sopra che sotto che a destra che a sinistra. Ok? Ho dato il margine al bottone. Faccio lo stesso magari per la label, quindi sempre di 10, 10, 10, 10 e lo stesso anche per il text field. Non 19 ma 10 e 10. Ok? Ho dato semplicemente del margine. Ok, abbiamo il primo V-Box con la prima riga. Non basta, però l'utente deve poter giocare e quindi mi immagino la riga sottostante come un campo di testo e un bottone dove l'utente possa inserire il suo tentativo e cliccare prova ad esempio. Allora, aggiungo un'altra riga. Prendo un altro H-Box, ok? E lo metto sotto la riga precedente. Sempre dentro al V-Box però, eh? Vediamo se riusciamo. Ecco qui che è difficile. Vi conviene chiudere l'H-Box così e poi provare a fare così. Ah, ce l'avevo. È veramente scomodo. Vedete, ora l'ho messo nel posto sbagliato. Sì? Sì? Sotto? Eh, hai ragione. Grazie. Grazie mille. Mi hai fatto scoprire un trucchetto. Molto utile. Perfetto. Abbiamo una seconda riga. Rimettiamo anche qui... togliamo la dimensione fissa anche qui. Quindi selezioniamo l'H-Box, togliamo pref width e pref height, mettiamo use computed size, ok? Ora questo box non è più visibile perché è vuoto, ma noi al suo interno ad esempio andiamo a metterci un altro text field che sarà quello in cui l'utente inserirà il suo tentativo. E qui, cosa è importante, un altro bottone per fare prova questo tentativo. Quindi cerco un altro bottone, button, vediamo se... no, 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 scusate. E lo metto dall'altra parte. Anche qui diamo magari un po' di margine, quindi seleziono il text field e gli do di nuovo 10 a tutto. E faccio lo stesso... no, scusate, ho dato del padding e non del margine. Ok? E faccio lo stesso col bottone. Ok? E adesso cambiamo il testo del botone. Quindi nelle sue proprietà andiamo a scrivere boh, prova. E questa potrebbe essere la parte di input dell'utente. Manca la parte per il programma, cioè affinché il programma possa darci il suo output. Beh, in un certo senso un output ce lo dà già qui in tentativi rimasti, no? Però poi ci serve anche l'output, ha indovinato, il tentativo è troppo basso, eccetera. Allora di solito per gli output del programma, almeno nei nostri esercizi facciamo sempre così, mettiamo sempre una textarea al fondo. Qual è la differenza tra textarea e textfield? Semplicemente che il textfield è una riga sola, mentre la textarea è un campo di testo più grande e multilinea. Ok? E quindi essendoci di solito una unica textarea in fondo è di per sé inutile anche metterci un hbox che lo contiene, perché c'è solo questo elemento che prende tutta la pagina. E quindi ad esempio io prendo una textarea, ok? E la inserisco al fondo, vedete, insert bottom. Quindi sta fuori dal mio hbox e vbox, ma tanto c'è solo lei. Altro? Vabbè, possiamo metterci una label all'inizio per dare il nome all'esercizio, non lo so. Anche qui c'è solo lei, sulla prima riga la possiamo mettere qui sul top, fuori dai nostri hbox e vbox. Quindi prendo una label, la metto a insert top e ci scrivo indovina numero, ad esempio. Magari, vabbè, possiamo anche farla, la possiamo anche ingrandire, eccetera, per abbellirla un po', ma non è quello che ci interessa. Ok? Adesso, vi ho fatto vedere veramente la versione base. Vedete che qui i campi sono un po' disallineati tra loro, no? Volessimo fare le cose per bene, avere delle colonne e gli oggetti ben allineati, potremmo ad esempio usare al posto di vbox e hbox un grid pane. Un grid pane ci permette di costruire una tabella dove andiamo a inserire i nostri vari elementi in colonna, però va già benissimo anche così. Allora, facciamo subito un distinguo sui vari campi di testo. Quale può essere la differenza, secondo voi, tra questi campi di testo? C'è qualche differenza, oltre al fatto che uno è multilinea, va bene, ma… Ok, bravissimo. Nel primo, questo qua sopra, non si può scrivere, altrimenti l'utente potrebbe barare e aumentarsi i tentativi, per esempio. Neanche nella textarea si può scrivere, perché anche qui serve solo per comunicare l'output all'utente. In questo invece si deve poter scrivere perché è dove l'utente scrive il suo tentativo. Quindi possiamo ad esempio disabilitare sia questo che la textarea. Come si fa? Da qualche parte, cerchiamo qui sopra, sì, c'è la proprietà disable. Se scrivete nell'inspector disable lo trovate. Da spuntare, vedete che è diventata grigia più scura, vuol dire che non ci si può più scrivere, l'utente non può più scriverci. Stessa cosa magari facciamo per l'area di testo. Quindi seleziono l'area di testo e clicco su disable. Mentre questa la lasciamo ovviamente così com'è. Ok? Non abbiamo finito però, qui viene il bello di questa parte. Noi abbiamo costruito la nostra interfaccia grafica, ma ora quello che noi vogliamo fare è associare del codice, che poi scriveremo in Eclipse, ai vari elementi di questa interfaccia grafica, cioè una programmazione diciamo così ad eventi. Quando l'utente clicca nuova partita qualcosa dovrà ben succedere, no? Ad esempio quando io clicco nuova partita il programma dovrà ad esempio inserire qui sette tentativi rimasti, non lo so. Quando l'utente digita un numero e clicca prova il programma dovrà controllare quel numero lì con il segreto che si è tirato a caso in precedenza. Quindi dobbiamo trovare un modo di collegare, diciamo così, gli elementi dell'interfaccia grafica al codice Java. Come si fa questo? Dobbiamo innanzitutto dare un identificativo a tutti quegli elementi, componenti che sappiamo ci serviranno poi dall'altra parte. Ad esempio il pulsante nuova partita dovremmo associarci del codice all'interno e quindi è bene che questo abbia un ID, per esempio. C'è una terza sezione sulla destra per ogni componente che si chiama cod. Il primo campo lassù in alto si chiama FXID. Lì è il posto dove associamo il nostro ID dei nostri componenti. Questo chiamiamolo BTN nuova partita ad esempio. Così come per le variabili è importante dare un nome identificativo che ci faccia capire poi che cosa sia quel ID, ok? Qui possiamo definire sia l'ID che, attenzione, il nome di un metodo che verrà invocato in Java quando si farà una determinata azione su quel componente. Se vedete qui c'è il campo on action. L'on action di un bottone è semplicemente il suo click, ok? È chiaro questo? Quindi qui possiamo mettere il nome di un metodo che poi andremo a scrivere in Eclipse, però è il nome del metodo che verrà invocato tutte le volte che l'utente cliccherà su quel bottone di nuova partita. Anche qui diamo un nome che ci faccia capire che cosa stiamo facendo, ad esempio do nuova partita, se vogliamo mischiare l'italiano e l'inglese, ok? Poi questo metodo lo andremo a scrivere in Eclipse, però il nome dovrà coincidere. Salvo ogni tanto perché se no… Ok, allora, altri componenti di cui ci interessa tenere traccia che poi andremo a invocare, diciamo così, dal codice Java. Sicuramente prova l'altro bottone. Quindi seleziono prova, gli do un id, btn prova, l'on action anche qui sarà il nome di un metodo, do tentativo, non lo so, tentativo, ok? Altri elementi di interesse che poi ci serviranno lato codice. I text field, ad esempio. Questo text field qua non sarà editato dall'utente, ma mano a mano durante il gioco cambierà, ok? Andando a dirmi quanti tentativi mi rimangono. Il fatto che cambi vuol dire che noi da codice dobbiamo avere un modo per riferirci a questo campo di testo. E quindi gli diamo un id, txt tentativi, ad esempio. Serve l'on action qui? No, non ci andremo mai a cliccare sopra, eccetera. L'on action di solito serve per i bottoni, per le tendine di selezione, ma per i campi di testo ci basta l'id. Con l'id noi possiamo recuperare un riferimento a quel campo di testo e, ad esempio, modificare il testo che è contenuto. Stessa cosa per la text area, ok? Per andare a scrivere il nostro output dal programma ci serve un id, txt risultato. Questo campo di testo ci serve o no? Sì. Qui non ci andremo a scrivere dentro, ma facciamo il contrario, andiamo a prenderci quello che ci inserisce l'utente. Però noi dal programma dobbiamo prendercelo, perché poi dobbiamo controllarlo. E quindi anche qui txt tentativo, ad esempio. Ok? Salvo tutto. Direi che ci siamo. Abbiamo concluso la nostra progettazione dell'interfaccia grafica. Adesso c'è questo passaggio da fare, che anche questo dovreste già averlo visto. Questo tool qua, SimBuilder, ci permette di… ci crea in automatico la classe controller in Eclipse, in modo tale che appunto ci sia questo collegamento tra i nomi che abbiamo scritto qui nell'interfaccia grafica e i metodi e le variabili che usiamo in Eclipse. Allora, in basso a sinistra c'è questo tab controller e dovrebbe già essere riempito, però se vedete ci identifica proprio il file fxml controller del nostro programmino Eclipse. Infatti c'è proprio il package it.polito.tdp.indovina numero. Ok? Comunque controllate sempre che ci sia la classe giusta lì. A questo punto possiamo fare view, menu view di SimBuilder, show sample controller skeleton. Ok? A questo punto di solito è sempre bene anche aggiungere i commenti e spuntare questa checkbox full. Ok? Vedete che c'è questo scheletro di controller. Noi possiamo fare copy. Vi consiglio di fare copy con il pulsante di SimBuilder perché poi di solito non lo prende se lo selezionate. Quindi faccio copy e posso spostarmi di là. Mi sposto di qua su Eclipse, apro il controller e brutalmente cancello tutto e ci incollo il mio scheletro che mi ha generato SimBuilder. Se vedete bene, lui ci ha inserito tutti i nostri componenti a cui abbiamo dato un ID, quindi c'è il txt risultato, txt tentativi, btn nuova partita, eccetera. Sono diventate delle vere e proprie variabili nel nostro codice a cui possiamo far riferimento. E poi c'è anche il metodo, i due metodi, do nuova partita e do tentativo. Sono esattamente quelli che abbiamo scritto di là. Quello che ci resta da fare è ovviamente scrivere codice qua dentro, il codice che ci interessa in questo caso ad esempio tutte le volte che l'utente clicca nuova partita. È chiaro? Sì? Certo, torno su SimBuilder. Allora, quando siamo soddisfatti della nostra interfaccia grafica e soprattutto quando abbiamo associato tutti gli ID e tutte le on action, vabbè salviamo ma ora era già salvato, view, menu view, show sample controller skeleton. Io li ho spuntati prima, comunque è bene che ci siano sia i commenti che full, perché aggiunge delle annotazioni che possono essere utili. E dopodiché semplicemente clicchi su copy qua sotto. Sì, 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 non si chiude, è normale, sì, sì. Copy e lui te lo mantiene e poi lo incolli di qua. Ok, iniziamo a ragionare un po' sulla nostra logica del gioco, no? Sullo stato del gioco quali variabili ci servono? Ora ho chiuso le specifiche ma più o meno ce le ricordiamo. Allora, sicuramente ci serve un segreto, no? Il numero da indovinare. Il programma tirerà a caso un numero, questo numero poi se lo deve salvare da qualche parte. Ok, definiamo una variabile privata int segreto. Qui dentro il programma si metterà il suo numerino segreto. Altri parametri? C'erano due parametri che saranno fissi, almeno in questo caso. I tentativi? I tentativi, direi il numero di tentativi massimi, ad esempio, private, diciamo che questo è una costante, quindi final int tmax, i tentativi massimi vediamo dopo a quanto metterli. E oltre a questo, sì dobbiamo inizializzarlo, ma lo inizializziamo in un attimo. Abbiamo detto che il programma tira a caso un numero tra 1 e 100, giusto? Allora definiamo anche una variabile final int nmax uguale 100, così se dobbiamo cambiare poi il range è più facile. Allora dobbiamo indovinare un numero tra 1 e 100, quanti tentativi mi servono per avere la sicurezza di indovinarlo? Numero di tentativi minimo, secondo voi? C'è un modo per giocare in modo furbo, eh? 8, giusto perché? Esatto, se io gioco sempre al centro dell'intervallo che mi resta, visto che il programma mi dice numero troppo basso, numero troppo alto, io ogni volta posso scartare una metà dell'intervallo, andando a ridurlo fino a beccare il mio numero. Cioè se io dico, io da 1 a 100 gioco 50, il programma mi dice troppo basso, io scarto tutti i numeri sotto 50 e giocherò tra 50 e 100. Punto sempre al centro dell'intervallo e se faccio log 2 di n trovo 8. Ok, diciamo 8. Quindi se giochiamo in modo furbo in 8 colpi sicuramente indoviniamo il segreto. Manca una variabile di cui tenere traccia, che forse era quella che diceva il vostro compagno. Il numero inserito sì, ma quello lo possiamo recuperare ogni volta. Durante il gioco dobbiamo tenere traccia dei tentativi, quindi a quanti tentativi sono arrivati. Tentativi fatti. Ok, direi che con queste variabili riusciamo a modellare il nostro gioco. Dimmi? Questo è statico, scusami, è una costante, quindi non cambierà durante il gioco, quindi è fisso. Mentre questo qui cambierà durante il gioco, perché ad ogni tentativo fatto verrà incrementato. Ok? Va bene, partiamo da nuova partita, no? Quindi qui ci sta la gestione di una nuova partita. Che cosa dobbiamo fare ogni volta che inizia una partita? La prima cosa da fare sarà? Tentativi rimasti, sì, che però è più una gestione dell'interfaccia. Partiamo proprio dalle variabili. Scegliere il segreto sicuramente, quindi ogni volta quando l'utente clicca il programma ritira a casa un numero. Quindi dis.segreto, sì, perché non me lo fa vedere, non lo so, uguale, allora dobbiamo tirare un numero a caso tra 1 e 100. Come facciamo? Non so se a programmazione ad oggetti avete visto mat.random. Non so perché non mi faccio vedere la documentazione, probabilmente perché non sono connesso a internet, ma se voi vedeste la documentazione mat.random tira a caso un numero, se non ricordo male, E' un numero, se non mi facciamo la documentazione mat.random. E' quindi da 0 e 0.99. Giusto? Datemi conferma. Cosa? Esatto. Quindi come facciamo a riportarlo? Qui abbiamo da 0 a 0.999999. Noi vogliamo traslare questo numero che lui ci tira a caso tra 1 e 100. Giusto? Sì, quindi facciamo mat.random per, mettiamo nmax, così se cambiamo l'intervallo lui cambia direttamente, ma non basta mat.random, scusate, perché qui ci conta anche lo 0, quindi se mat.random ci tira fuori lo 0, noi avremo 0% 0, ma lo 0 non va bene, noi gli vogliamo da 1 a 100 e quindi semplicemente facciamo più 1, no? Quindi se mat.random ci tira fuori 0, farà 0% che fa 0, più 1, 1. Se tira fuori 0, 9, 9, per 100 farà 99, più 1, 100. È chiaro? Ovviamente qui ci sputa fuori un double ed è per questo che ci dà questo errore qui, perché noi, per noi il segreto è un int e quindi in questo caso mi basta fare un cast a intero. Occhio coi cast, bisogna sapere cosa si fa, però in questo caso mi sembra ragionevole. Facciamo così, mettiamo anche le parentesi, così forse è più corretto, cioè il cast lo facciamo alla fine quando abbiamo aggiunto anche più 1. Ok, abbiamo tirato a caso il segreto, l'altra cosa da fare quando inizia una partita in un gioco è riportare lo stato del sistema, diciamo così, all'inizio, una versione pulita. Quindi se l'utente aveva già fatto ad esempio dei tentativi nella partita precedente, qui dobbiamo azzerare tutto, giusto? E quindi se iniziano una nuova partita sicuramente di spunto, come l'ho chiamato, tentativi fatti, lo riporto a 0. Poi, come diceva qualcuno di voi, oltre a gestire le variabili gestiamo anche l'interfaccia, perché anche l'interfaccia andrà diciamo così pulita. Quindi gestione interfaccia, posso rimettere il numero di tentativi fatti anche qui a 0. Sì, possiamo scegliere se... in realtà sarebbe meglio perché per come abbiamo strutturato l'interfaccia grafica abbiamo scritto tentativi rimasti, non tentativi fatti. Quindi qua dentro dovremmo metterci quanti tentativi mi rimangono, non quanti ne ho già fatti, perché... per come l'abbiamo strutturata. E quindi, diciamo così, quando inizia una partita quanti tentativi mi rimangono? T max, ok? Questa variabile qua. E poi ogni volta andremo a diminuire di 1. Quindi, this.tentativi... ah no, scusate, questo è l'elemento JavaFX, quindi l'abbiamo chiamato txt tentativi, è quel txt lì. Quindi txt tentativi, punto. C'è il metodo, di nuovo qua non mi apre la finestrella con i suggerimenti, a voi sicuramente sì. Quindi c'è il metodo setText, per cancellare quello che c'era e impostare un nuovo testo. SetText, t max. Ora, qui mi dà un errore, perché sto provando a inserire un numero intero, t max, è un int, in un metodo che accetta stringhe, setText accetta solo stringhe. Quindi devo tradurre il numero in una stringa. Come faccio con la classe integer? Integer, con la I maiuscola, punto, toString, di t max. Prende quel numero e lo converte in una stringa. Rifaccio anche così, se faccio hotspot vediamo se riusciamo a connetterci a internet. Altre cose da fare qui, quando iniziano una partita, cos'è che potrebbe rimanere sporco dalla volta precedente? La textarea, quindi ogni volta che clicco pulisco la textarea, txt risultato, punto, clear. C'è il metodo clear che pulisce l'interfaccia grafica, cioè l'area di testo. E basta, direi che questo è tutto il codice che ci serve per far iniziare una nuova partita. Ricordo che questo metodo, due nuova partita, viene invocato tutte le volte che clicco sul bottone. Vi consiglio sempre ai vostri programmi di provarli passo passo, non aspettate mai di arrivare alla fine per fare un solo run e controllare che tutto funzioni, soprattutto all'esame perché poi non funziona niente. Quindi ogni cosa che fate cercate di provarla. Ad esempio qui abbiamo fatto questa roba qui, dovrei accorgermi che almeno qualche interfaccia grafica cambia, no? Qualche componente, quindi apro il mio main e clicco sul play verde. Vediamo innanzitutto se c'è la nostra interfaccia, sì c'è, un po' piccolina ma va bene. Clicco nuova partita e non so se lo vedete ma è apparso un 8 in tentativi rimasti. Non c'è nessuna eccezione, c'è solo un warning ma quel warning si può ignorare. Comunque non ci sono eccezioni nella console, quindi tutto procede bene. Chiudo. E passiamo al secondo metodo, do tentativo. Ok, qual è la prima cosa da fare qui? Controllare che abbia scritto qualcosa l'utente, sì, e in sostanza possiamo dire prendere l'input dell'utente. Questa parte c'è sempre nei nostri esercizi ed è una parte importante, bisogna stare attenti a controllare sempre l'input dell'utente. L'utente ad esempio potrebbe aver cliccato il bottone, prova, senza aver inserito nessun tentativo. Ok? Allora dobbiamo intercettare questa cosa, dire all'utente no, così non va bene, per favore inseriscimi il tentativo. Anche perché se noi facciamo andare avanti il programma quando l'utente non ha inserito nessun tentativo, andremo incontro sicuramente ad un'eccezione. Ok? Oppure, altro caso di controllo di errore è, ci aspettiamo un numero, come in questo caso, e l'utente ci digita un carattere. Anche qui, se non controlliamo l'input, noi poi probabilmente andremo a utilizzare dei metodi che vogliono un numero, gli passiamo un carattere e tutto si pianta. Si pianta l'esame vuol dire non passo l'esame. Ok? Quindi il controllo dell'input è importante, bisogna farlo sempre. Facciamolo. Allora, noi questo input lo prendiamo da un TXT particolare che è il TXT tentativo, con la O singolare. Giusto? TXT tentativo. Punto. Mannaggia, non si apre la finestrella, ma voi dovreste vederlo. C'è il metodo getText. Giusto? GetText. Allora, la getText, lo vedete anche lì nel suggerimento, nella documentazione, restituisce, questo lo vedo anch'io, restituisce una stringa, sempre. Anche se l'utente scrive un numero, lui non ci restituisce il numero, ci restituisce il carattere alfanumerico, no? Una stringa. E quindi, va bene, come prima cosa prendiamoci questa stringa. Chiamiamola TS per dire che è il tentativo stringa, ok? Lo chiamo così. Adesso, qui ci sono tre casi possibili. Il primo è che l'utente abbia inserito un numero, e va bene. Il secondo è che l'utente abbia scritto qualcos'altro, tipo un carattere, non un numero, e va male. Il terzo caso è che l'utente non abbia scritto niente, in quel caso TS null, ok? Come facciamo a controllare? Beh, il modo più semplice è provare a convertire questa stringa in un numero, andando a catturare possibili eccezioni. Se questo era un numero, tutto procede bene e possiamo continuare. Se questo era un carattere oppure null, ovviamente mi scatenerà un'eccezione che io devo catturare, ok? Per non far piantare il programma e dire il messaggio dell'errore all'utente, è chiaro? Quindi io mi definisco una variabile tentativo int, ok? Intentativo. Poi provo a convertire il tentativo stringa in un numero. Quindi dico tentativo uguale, come faccio a passare da stringa a numero? Prima abbiamo usato integer.toString, adesso usiamo integer.parseInt, a cui passa una stringa, è il metodo opposto di quello di prima, ts. Questo metodo, se andate sulla sua documentazione, vedete, ritorna l'integerValue rappresentato dall'argomento in decimale, va bene, ma throws numberFormatException se la stringa non contiene un intero. Allora noi andiamo a catturare quella eccezione, quindi questa istruzione qui la mettiamo in un bel try catch. Sappiamo anche che è l'unica eccezione che può scatenarsi qui, che è una numberFormatException e qui indentiamo bene il codice, quindi se per caso qualcosa va storto, cosa facciamo? Beh, lo diciamo sicuramente all'utente, txt risultato, dove noi mettiamo gli output, punto, setText, devi inserire un tentativo numerico tra 1 e 100, poi si può anche migliorare questa parte ma vediamo la soluzione base, ok? Stampo questo messaggio, glielo dico, e dopodiché però mi devo fermare, non ha più senso continuare questo metodo, attenzione non si ferma l'intero gioco, si ferma l'esecuzione di questo specifico click del bottone, ok? Però non devo andare avanti e quindi return, esco subito da questo metodo, l'utente se vuole mi mette un numero e clicca di nuovo, ok? Non ha neanche senso, poi dipende un po' dalla logica, ma non ha neanche senso diminuire i tentativi, no? Facciamo finta che un tentativo sbagliato non influisca sul numero, poi si potrebbero anche diminuire, dipende da che regole vogliamo darci, però in questo caso esco e non decremento neanche i tentativi. Se arrivo qui vuol dire che l'input era corretto, potremmo ancora controllare che l'input sia nel range giusto tra 1 e 100, va bene, lo possiamo anche aggiungere, però per il momento tralasciamolo. Se siamo arrivati qui sicuramente vuol dire che un tentativo l'abbiamo fatto e quindi di spunto tentativi fatti si chiama, sì, più più, si chiama così, sì, ok, incremento di 1 e i tentativi, perché l'ho fatto, corretto, e adesso c'è tutta la parte di controllo di questo tentativo, avrà indovinato oppure no? Allora, partiamo dal caso più semplice, ok, ho beccato il numero, come faccio a controllarlo? Se è così, glielo diciamo all'utente, txt risultato punto setText, hai indovinato? Magari diciamogli anche con quanti tentativi hai indovinato, non lo so, con più this punto tentativi fatti più tentativi, ok? Poi ci scrivete quello che volete, non è importante. Se ho indovinato, fine, return, esco dal metodo, glielo ho detto all'utente e la partita è finita. Adesso, potrei aver sbagliato, cioè se sono qui dove il cursore è sicuramente ho sbagliato, perché non sono entrato in quella if, altrimenti sarei uscito. Allora, è vero qui possiamo dirgli troppo alto, troppo basso, ma supponiamo il caso, io sono all'ultimo tentativo possibile, l'ho fatto, è inutile che ti dico è troppo alto, è troppo basso, hai perso, no? Tanto non puoi più fare un nuovo tentativo, quindi prima di dire è troppo alto e troppo basso, magari controlliamo di non aver esaurito i tentativi. Se questo è il caso vuol dire che hai perso, è inutile che ti do altri feedback. Quindi, if di spunto tentativi fatti uguale uguale a Tmax, ho esaurito i tentativi, ho perso. Esaurito i tentativi, hai perso. Quindi anche qui glielo diciamo, txt risultato punto set text, hai perso. Magari diciamo anche qual è il segreto, il segreto era due punti più dis punto segreto. L'accapo, no, qui non va a capo, il segreto era due punti me lo mette di fianco. Ah, ok, ecco, grazie della domanda che mi permette di specificare questo. Qui ho sempre usato una set text, la set text cancella quello che c'era prima e mette il messaggio nuovo. Se ci interessa tenere traccia, andare a capo e avere l'elenco di tutte le giocate, diciamo così, al posto della set text usiamo la append text, ok? L'append text appende in coda, dobbiamo però aggiungere lo slashenne, ok? C'era un'altra domanda forse? Sì, io non l'ho messo, ma volendo si può mettere, direi come controllo dell'input, ok? Poi magari lo aggiungiamo, grazie. Sì? Ma quando dovrebbe essere stato indovinato, dovrebbe essere tipo uno stop per non fare altri tentativi? Sì, lo vediamo dopo, è una cosa che vediamo dopo, grazie. Quindi, se i tentativi fatti sono esauriti, diciamo questo, hai perso return, fine. Se invece era un tentativo intermedio, diciamo così, ha senso dare il feedback alto-basso perché poi lui, l'utente, potrà continuare. E quindi posso dire che if this punto, no, scusate, tentativo minore di this punto segreto, se questo è il caso, gli dico tentativo troppo basso. txt, risultato, punto, setText, tentativo troppo basso. Else, attenzione, io metto else senza dire maggiore, perché qui l'unico caso che può capitare è il maggiore, perché se fosse stato uguale sarei rientrato, ops, dove è il cursore, sarei rientrato qui e quindi la return mi avrebbe fatto uscire. Quindi qui basta mettere else, qui siamo sicuri che è il caso in cui tentativo è maggiore del segreto. txt, risultato, punto, setText, tentativo troppo alto, punti virgola, me li sono dimenticati. Ok? Manca ancora una cosa? Esatto, bravissimo, non abbiamo ancora aggiornato i tentativi rimasti. Ho fatto il mio tentativo, è andata male, ne tolgo uno dall'interfaccia grafica. Ora, noi abbiamo fatto le cose inverse, qui nella variabile ci teniamo conto dei tentativi fatti, mentre nell'interfaccia grafica mettiamo i tentativi rimasti. Vabbè, basta fare una meno, quindi txt, tentativi, punto, setText, andiamo a rimpiazzare quello che c'è, con tmax, meno, tentativi fatti. Stesso problema di prima, questa meno mi restituisce un int, io voglio una stringa nella setText, quindi integer, punto, toString, tmax, meno, tentativi fatti. Ok? Proviamolo, già l'ho provato troppe poche volte, però speriamo funzioni. Allora, nuova partita, otto tentativi rimasti, proviamo a giocare in modo furbo, 50, tentativo troppo alto, quindi proviamo col 25, troppo basso e via dicendo. 25, quindi giochiamo a metà, boh, 40, non lo so, non ho voglia di contare, troppo basso, quindi 45, troppo alto, quindi 43, troppo alto, 41. Ok, ho indovinato con sei tentativi. Sembra funzionare tutto, come diceva il vostro compagno, però c'è ancora un problema, adesso la partita in teoria dovrebbe essere finita, ma come vedete io posso ancora giocare. E questa cosa è sbagliata, ok? Allora, qui ci sono varie soluzioni, la soluzione forse più immediata è andare a disabilitare le cose che non posso fare, cioè quando una partita è finita io disabilito questa riga qua e così, in questo modo, il programma non mi permette più di giocare. È chiaro? Quindi potrebbe essere così, la riga prova è disabilitata per default, viene abilitata quando clicco nuova partita e viene disabilitata quando vinco, quando perdo, fino a che l'utente non riclicca nuova partita. Questo può essere un modo per vietare all'utente di continuare. Allora, come faccio? Dobbiamo tornare un attimo a SimBuilder, ok? Vado a selezionare l'hbox che contiene il campo di testo col bottone prova, quindi tutta la riga, e anche qui uso la sua proprietà disable, ok? La disabilito per default. La abiliterò quando l'utente clicca nuova partita. Cosa vuol dire questo? Secondo voi? Devo avere un modo dal mio codice per abilitare tutto l'hbox o disabilitarlo quando ho perso. Vuol dire che ho bisogno anche di un id dell'hbox, che al momento non ce l'ha. Perché disabilitando l'hbox è più comodo perché in automatico si disabilitano anche tutti gli oggetti contenuti. Allora, in code do un id al mio hbox, chiamiamolo hbox tentativi. Salvo. Attenzione qui. Abbiamo fatto una modifica, abbiamo dato un id all'hbox e quindi di conseguenza il nostro scheletro del controller sarà leggermente cambiato. Se noi andiamo in view show sample controller vediamo che c'è questa riga, queste due righe, con l'hbox tentativi che prima non c'era perché gli abbiamo dato l'id adesso. Allora, io seleziono queste due righe, le uniche cose che ho cambiato, clicco su copy, ok? Selezionando solo le due righe, altrimenti sovrascrivo tutto di là, copy, torno in eclipse e qui aggiungo il mio nuovo componente a cui ho dato l'id in mezzo agli altri, ok? Devo anche importare l'hbox, non l'ho copiato, ma se andiamo qui, io non vedo i suggerimenti, lo copio di qua, ma altrimenti dal suggerimento si può anche importare. Devo anche copiarmi questa import dell'hbox, è un'altra cosa che è cambiata. Ok, ho il mio hbox che è disabilitato per default, quindi quando parte il gioco, guardate, vedete, prova è disabilitato, non posso cliccare, non posso scrivere. Ora lo vorrei disabilitare, lo vorrei abilitare quando clicco su nuova partita, quindi sarà un'istruzione in più da aggiungere ad una nuova partita. quando inizia una nuova partita, dico che hbox tentativi, non mi ricordo, set disable, set disable mi pare, false. E' questo? Sì, è giusto, me lo ricordavo. Set disable false vuol dire al campo disable metti false, quindi togli la spunta. quindi adesso quando faccio partire di nuovo il mio programma, quando clicco nuova partita, mi aspetto, esatto, che il campo di testo si abiliti, così come il bottone. Viceversa, quando non voglio più che questo sia abilitato, lo disabilito. e questo succede quando quando ho vinto, quindi qua sotto dopo aver detto hai indovinato, dico hbox tentativi punto set disable true, oppure quando ho perso, tutte le volte che non posso più andare avanti. Ho incollato la riga qua sotto. Non posso più andare avanti, ti disabilito, te lo riabiliterò quando cliccherai di nuovo nuova partita e io riporterò il gioco all'inizio. Dubbi, domande? Sì? Perché così il vostro compagno chiede perché abbiamo messo di default disabilitato la riga è una scelta progettuale ma perché così forziamo l'utente a cliccare nuova partita. Non ha senso dimmi. Ok. Non ha senso fare inserire dei tentativi se la partita non è iniziata. Domanda? Eh, non sento niente, scusate. Eh, vengo a vedere piuttosto. Ok, o vieni qua a farmi vedere perché mi sembra ci sia lezione dopo di noi quindi non... Come diceva la vostra compagna se volete potete aggiungere il controllo che il tentativo sia nel range giusto quindi qua sotto oltre a essere un numero potete anche controllare che sia tra... che stia tra 1 e 100 e se non sta tra 1 e 100 stampate un messaggio d'errore. Altre cose da farvi notare vabbè io qua ho ottenuto queste if separate mettendo una return ma nulla vi vieta di avere una else if senza la return è uguale. Ok? L'ultimissima cosa poi abbiamo finito vi faccio solo notare una cosa anche per le prossime lezioni come vedete qui abbiamo scritto tutto il codice all'interno di un unico file del controller ora questo esercizio era molto facile e quindi qua dentro abbiamo sia la gestione dello stato del gioco sia la gestione dell'interfaccia grafica eccetera per esercizi più complicati questo file diventerebbe un casino ok? perché diventerebbe troppo lungo nelle prossime lezioni vedremo come strutturare meglio il nostro codice seguendo un pattern di programmazione chiamato model view controller in cui con cui riusciremo a disaccoppiare la gestione dell'interfaccia grafica ad esempio dal codice applicativo dalla logica del gioco ok? se volete potete fare le estensioni a casa ce ne sono di facili e di un po' più difficili e poi continueremo con le prossime lezioni va bene? grazie a tutti stoppo solo la registrazione